Buonasera, dopo la recente intervista realizzata da Vincenzo Mollica con Gigi D'Alessio, in merito alla sua ultima canzone scritta per Anna Tatangelo, il mio amico, e nella quale il cantautore pare abbia dichiarato Non tenco niente contro coloro che, i quali, chi, non si sentono né uomo né donna L'Educational Channel ripropone l'iniziativa di solidarietà, un docente di italiano, ma anche un docente di biologia, ma anche un sessuologo per Gigi D'Alessio Partecipa anche tu all'iniziativa e per sapere come fare per tutte le modalità a riguardo, vai sul sito www.educationalchannel.it slash Gigi D'Alessio non si può, ma non si può proprio, ma proprio, ma proprio, ma proprio più sentì Perché la solidarietà non è mai troppa